Benvenuti a tutti, questa è Duperlue Banalone, insomma banalone Non abbiamo fatto altro che farlo esplodere Banalone Torniamo banali ma solo per questa domenica Oh che strano, e lo studio giallo ha sempre delle cuffie, anzi ha 20.000 posti Pronto? Daniele? Senti Daniele mi senti? Mi senti tanto così Devi dire, non sticazzi, però devi dire E stica Ma stica E stica Perché ci hanno fatto un rave party qua dentro Non sai neanche che cos'è un rave party tu Io pensavo sempre a sesso, droga, a persone che vomitano e che fanno, e che si accoppiano brutalmente agli angoli della stanza Non è così Se c'è pota Senti pota E' vero che ti piace fare delle cose strane mi hanno detto Buonasera Ciao Daniele Buonasera Ciao Ci stanno riprendendo Ci stanno riprendendo Chissà da chi ne ha sentito parlare questo rave party Non ti ho sentito grazie al cielo Ero per te e per la tua carriera Allora Clio Sì Ma non sarà facendo un video No ci sta solamente mettendo a fuoco penso E noi rispetto a noi Cioè tu fallo come se non ci fosse Scusami Gu se ti ho passato in diretta le peggiori telefonate della storia della radio Scusami Gu se ti ho passato in diretta Noi non sono un'attrice Aspetta un secondo vado a fare un po' di acting coaching Ma non possiamo tenerci quella che c'era Buonasera a tutti Volevo ringraziare il trio Medusa per aver scelto anche a Tu per Go come programma di questa domenica da Zozzoni A dieci minuti dalla messa in onda queste brillante idee Come stai? Sudato Cioè ed è per questo che la puntata di oggi si occuperà di buoni propositi Che bella che è questa Ragazzi a Tu per Go for Power Si può dire a Tu per Go for Power A Tu per Go Viva